Vediamo sto famoso 85 Dovevo preparare il film della presentazione Ci vuole tempo Vediamo che c'è da de bello Bye Vabbè mi ha dato 89 89, 89, 86 88 Vabbè dai manco male Poteva Poteva Pogna peggio Apriamo prima del Prime Gaming Vediamo che Art in battle ne hanno messi Vabbè si cazzo Oh buono l'if però del Prime Gaming Ma che è sto Pacco Ma è orribile Ma come cazzo Ma che Prime Gaming è scusa Ma che cazzo di pacco danno Questi Forsberg capirai Ah 3,93 2,89 Magari a trovarlo un pacco Così vaffanculo Sia tipo Dembélé e Massimino Questi così Che stanno un milione sul mercato Non so Ma pure in bappettoti Alla fine Ehm Buono per far mai giocatori Sbc Sì però Comunque non costa poco Perché 87 Con 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 il top Oh Costa un cazzo Perché c'è pure il top E bla 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 Però vedo che drop Solo il mio era una merda Alla fine Ripeto pure l'if che è buono Oblak da paura Costa Benzema Belling Ah beh Bacchi Cioè Ce fai Ce fai E' tornato stamattina Ma te dirò Alla fine manca aspettato tanto Aspettando dimmi Per le sms di appuntamento A 7000 giga Te fai mette Pacchetto Premi gaming E' usceno Veramente usceno Attendo le 19 e 27 No non penso Ci dicono che Tra stasera e domani Mo' Legano nel portabagaglio E gli fanno Fanno firma Mentre gli monoloramano Non so cosa Ho fatto a queste carte Poverette Vabbè ma quella è normale C'è comunque C'è carte che c'hanno Un po' La croix La croix La croix Questa è una carta speciale Che la potrebbero fare Futis Correa Alberto Hoffman Anto grazie per i 16 Bello e bentornato Chi è? Grazie per i 10 Puzzo e bentornato Non è vero Io non so se ho letto Era 3 più 1 Eh ho capito E' uscito oggi La data Del trailer Oggi è uscita la schermata Hanno detto che il 20 E le 18 Troppano il trailer Ok sono due minuti Ah un altro Yoda Buono Tilemans Ginter Rodriguez Questa è una bella cagata Tutti over all bassi Poi mette direttamente Il coso su Per il culo Se vuoi però Ma quale c'ha? Che è lornao? Sabbè Se ci sarà sotto uno forte Per forza Hazard e Militao Certo guarda Quanti 80 5 86 Mmm Questo non mi è piaciuto tanto Ha visto da meglio Ti do lì così Pronto in pole position Grande anche Ma già lo sei Secondo te può ancora giocare Ma secondo me Si ce può stare Verratti Io voglio andare lo studio con me Come devi fare E tabba Anche volendo Non puoi Ti dovi abbonare in sud Infatti Giastneci Ci è riuscito Così gli scure giù Tutta la macchina God Oh firmino Simpatica Barelle Ma Ti dirò Ti dirò Ti balafutti Sdaro Ma Secondo me Inizieranno a fare un po' De carte Di po' L'Andersi Un po' De giocatori grossi Cover o l'altro Che si sono trasferiti Ti fanno Ah Luis Diaz Che tanto è uscito Nei pacchi Boh sì Rondo C'ho l'S22 Ultra Nel senso far su Gwendo Azzard Correa Diaz E Sterling Ma questi sono doppioni Si immaginano scambiabili Vabbè però 2-90 Eh tocca farla Mo A masca Così Io Entra Aspetta un attimo Che devo fa' Ti compri la magliettina Di bala Si Si prende Subito Vabbè sotto c'è uno Meglio De correa Modricce Carlos Correa Kunde Bum Zonne Oh, mica male Gigi, secondo me sarebbe meglio a te Che a lui, però Rudiger, De Jong, Courtois Dai, ci sta, questo ci sta Non è male A meno dei mesi, comunque Non so se... No Dai, che stia, Biz Pensi che entri nei partiti imbappettati Non si trova da solo Arrivo, arrivo, sto arrivando a tutti È Roma Shakhtar il 7? Teo, Casemiro Lukaku Kon Ma dai, Ro? Ma è bietti usciti, qualcosa? Tuo cannacce? Cannacce lì, eh Grande festa Quel pusca, scossa tanto, ca Però diciamo che è farmabile Tra pick, cazzi e mazzi Ci potrebbe stare, secondo me Ti fanno vincere un trofeo Insomma Bravi, arrivati bene, arrivati Kimmich, Milano Ma adesso un po' così, un po' fiacco Come pallotta, no? Paro, paro Dici tutti e due insieme Ne so perso Che mo' le trovo? San Maxime Ma che cazzo Asa, grazie, mi piace Ben tornato Bello Dani, però Asa, grazie, mi piace Ben tornato Magari Magari Ma me Tiago Tilema Vabbè, ti posso Più che altro Buono leaf Da utilizzare Da fionna dentro Che ha combinato Che non c'è sta più Toro seduto Intanto il Real Ha preso 4 pere Quest'anno dal Barzo Forse andrebbe Anche cosa ha fatto il Real E cosa ha fatto il Barcellona Però Oltre a quella partita Che non contava Assolutamente nulla Ma nel 96 Dall'85 Più Te dirò Insieme a Milano Meglio Walker O Go Walker Walker contro Sembra veramente forte Certo, costa un sacco E cioè Non scambiabile Ma prenderei Il cellulare rotto E non so mettere Account di qua Quindi Non ti ricordi O pass O Ti ricordi La password Perché poi Dio sai Peccato Anche il che mi Desce Inverpa Di roba Su sto canale E ancora Circo Massimo Barella Fammi uno Il campionale principale Non mi fa uno Inghilterra D.D. Arnold Ma non è 80 No, 89 Ho sentito una mail Che ho sentito anche Cristian Senegialo Pauwessim Questo Questo ancora Poggio Che è Buono Questo Spigne pure Tibala 87 Dicono Il prossimo Anno Culibali Pure Delict 84 All'anno 80 Ah Dicono Che Questo Sta di You want to watch Che cazzo Ne sa Questo Registrazione Fammi Fammi sognare Questo Vabbè che Dembélé Mancherebbe Giusson Totti Da trovare Perché per Resta Havamo trovati Tutti Havamo trovato Massimino Havamo trovato Dembélé Ah Fine Lewandowski 93 Buonissima Per noi roll Eh Già L'ho Adal Vabbè Però 2 85 Soli Ha dato Te tiro 3 85 Katal 93 Due giorni Eh ripetibili Eh si Mo rimetteranno No Non è ripetibile Ogni 24 ore Questo Ma i testati Due Poi te ne faranno Christensen Oh i brabono C'ho pure giocato Manco Come è dispiaciuto Questa Forse La carta Che vorrete Più Futis Perché C'ha un gran Bel potenziale Come 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 Nel carta C'è ancora C'è ancora C'è ancora Quella Mi ha fatto 20 Colle In 14 Partite Un 90 Dal 10 85 Vabbè A culo Quello Ti è in copertina Tony Cross Mi auguro Sotto Te Qualcuno Speciale No In teoria C'è scritto Sull'email Se sei Bannato Per sempre Questo Brutto 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 Sempre La stessa Con quel nome Non ho il pacco Perché Mi ha dato Manca a me Il pacchetto Prime Sono entrato Ma hanno dato Un culo Sì Perché no Vediamo Questo 83 Più Vabbè Cansero Unesto Ti è sotto La sedia Io Sì Sto Tutto Eh Ma Stanno Arrivato Tutto Un po' più tardi St'arrivato Quindi Sancio Non te compri Il fascia massima Non è semplice Come cosa Rodrigo Giallo Luca Cum Sparego Screener Coke Lautaro Me E c'è questa qua In palio C'è non questa Questa Un'altra Ugale Che Barivanova No Scureggiato Dallo Streamer Poi Ci metti 30 secondi Marquinhos Che cazzo Ci fai E io 93k Da Mo Che stanno 93k Però Vabbè Insomma Male Griezmann Lodimare Un po' Dei giocatori Diversi Gli ha dato Se fate un test Sclamativo Giveaway Selezionate Quello che Volete Io Tag Magari Partecipa Pure Lei Se Sabba Amitico Io Quello Che sta Sempre Devi trovare Qualcuno Che lo fa Ecco Il discorso Devi trovare Qualcuno Che lo fa C'è M'ho mutato Loro Che ci hanno Dato la Sedia Disponibile Per giveaway Ovviamente Ciruzzo Buono Sarebbe Fico Farne Uno Al mese Per i Sabba Con il giveaway Da cuffie E robe Varie Però Devi trovare Sempre Un'azienda Disposta Hurricane Hurricane Donnarumma Loperberto Vabbè Non male Sto pacco Tutto Sommato Puragimi Bono Titolare Lo metti Là Sai come Spigna Vediamo Che succede Non so se Fallo Iniziato Oppure No Però Non lo so Andiamo Sì Andiamo 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 Si va Si va Si va Si va La presentazione Alla prima Tutte quante Trasferte Partite Ovunque Beh Che poi In realtà Trasferta Alla prima Dei campionato C'è Se potrebbe Bannà Arnold Teo Megano Rodrigo Varane Gomez Dai Poi Se vinci Ti arriva La notifica Oppure Ti arriva Tipo Nei miei ordini Ti arriva Direttamente Il codice Di quello Che hai vinto No Ma dovevano Contrastare Comunque Il pass Di xbox Che è Comunque Bello Valido Bella Robba Sony Ti dà Esclusivi Ti dà Titoli Comunque 120 Lanno Ti danno 3 4 AAA Per Ditte Che Insieme Costano Molto De più Gira Che te Rigira Te conviene Gira Weapon Sbuciona Non so Se si può Fare Capito No Ma C'avete 4 messaggi In chat C'avete 4 Io non Capisco La vostra Logica Cioè Pensate Che Ve potete Comportare Come uno Che ce n'ha 10.000 Che sta qui Da 10 anni E' ovvio Che venite Bannati Pacco Ne manco Malissimo E' ovvio Che venite Silurati E' quello Il discorso No Ancora No Mi sa Che aprono Tra due giorni Al preorder Dai Gli damo Gli damo 24 Vedemo Gli avevo pure Risposto Mi scivola La chat Arnold Massa Questo Che cagata Giusto Sogio Felix C'è Fente Del builder Non Assolutamente La notte Perché sta Chi hai due e mezza Ci sta Capito Prendi Hai due e mezza E vaffanculo Tanto Cioè Chi c'è sta E sei del mattino In stream Capito Che te voglio dire Infatti Infatti Ho pensato Pure Fattuto Dici ore In realtà Anzi Che mettiamo A fastidio Vabbiamo Allora Domani No Perché Mercoledì esce Il trailer Se faccio A24 Domani Mezzo Un po' Il trailer De FIFA Col preorder Devo fare un po' Dei cazzi Quindi Non è un'idea Tanto furba Da parte mia Poi dovrò far video Una cosa e un'altra Io ma seriamente Abbe te d'antorni Tutto storto Umbriaco No ma è strano Perché in teoria Che poi i diritti C'è la C'è l'Amazon Perché sta tutto Su Amazon Prime Camera Caffè Che poi Te posso dire La verità Ogni tanto Mi metto E mi vedo due cose Perché Comunque gira Ripetizione Camera Caffè Fa sempre ride Sono 2000 episodi E quindi poi A fine della fiera Tu lo vedi pure Rudiger Che si Ginta Massa Due ore Gli ha dato Pure buone Mancano 85 Da paura